Venerdì 17 ottobre alle ore 18 presso la sala consigliare del municipio Levante si è svolta l'assemblea pubblica per affrontare le tematiche sugli interventi da affrontare su Rio Vernazza. Alla presenza del presidente Nerio Farinelli e dell'assessore Michele Raffaelli i residenti della zona hanno dato sfoco alla loro disperazione e alla loro rabbia più che giustificata dopo gli ennesimi danni subiti a seguito degli eventi meteorologici del 9 ottobre scorso. Siamo più di cent'anni che viviamo in via Pontetti, non è mai successo niente, è questo che la gente ignorante come me e come tanta la tragedia si chiede, anche nell'alluvione del 70, ma non è successo niente. Nessuno ha preso un euro, tutti i soldi partiti, soldi che ha mandato, dove sono finiti questi soldi? Io sto pagando qui in Italia, in 30 anni, ma in quanto è qui in Italia? Sto pagando le tasse del 2011. Del 2011! O devo chiudere l'attività che è lì? Io la chiudo l'attività! Come sento quelle macchine lì? Ho perso tutto! Tutto! La sinistra tutti questi anni ha avuto il beneficio dei voti, no? E si sono seduti lì. Ora è il momento di dare delle risposte. Se vogliono di nuovo il voto. E' una partita che mi auguro si mantenga quello che si è detto. Ho letto quello che avete letto voi, fino a 30.000 euro di esercimenti subito, procedure immediate, procedure immediate e di Natale. Su questo magari faremo anche la sensibilizzeremo per portare avanti. Già nel 2011, il 4 novembre, si erano verificati danni gravissimi che nonostante gli interventi approntati non hanno evitato il ripetersi di situazioni insostenibili. L'assessore Raffaelli ha promesso di far sentire la propria voce al governo, richiedendo immediatamente i fondi necessari per un intervento definitivo e la messa in sicurezza di tutte le zone coinvolte. Tali lavori sono attesi da decenni e la popolazione non può più vivere nel rischio che ad ogni bomba d'acqua la loro vita, le loro attività, la loro speranza, possano essere ancora una volta spazzate via. Adesso vedete, sono tutti innocenti. Guardate che la politica è straordinaria. Perché alla fine non c'è stato uno che abbia chiesto scusa. Se a Bernazzola c'è una situazione così, ci devono essere delle squadre di intervento immediate in caso di alluvione. Perché noi quando siamo scesi giù, sia nel 2011 e sia l'altra notte, ci siamo trovati davanti a un muro d'acqua. Bisogna che la gente riabbia quello che arriva giovedì mattina senza rimetterci un euro. Qui bisogna che qualcuno parli. Perché la gente è arrabbiata. E io personalmente mi faccio portavoce di questo per dire non se ne può più.